Siamo su FIFA 18 nella verità carriera col Brescia si col Brescia, buonanotte col Carpi volevo dire e affronteremo il Brescia giustamente allora dopo la disfatta contro il nostro cioè il nostro il Palermo andremo a magari riscattarci contro il Brescia sperando una parità un pochino più bella che non guasterebbe al nostro campionato perchè comunque potremo avere la possibilità di essere riagganciati dall'Empoli cosa che non vorrei sinceramente parlando allora partiamo subito concentrati oggi torna anche Melchiorri quindi forse forse abbiamo più possibilità di fare gol perchè comunque Melchiorri è più forte di tanto di Malcore poco ma sicuro come si è dimostrato nell'altra partita torregrossa subito partiamo male innanzitutto dai vi prego ragazzi sarebbe bruttissimo farsi riagganciare a questo punto del campionato Melchiorri l'hai visto l'hai visto Bakogu Yenich niente che tiraccio mamma mia Yenich che sta giocando a rugby porca troia ho fatto un tiro brutto alto rispettavo qualcosa in più detta sinceramente bravo Shudori bravo Shudori niente comunque Shudori non mi convince ragazzi Melchiorri eccolo Concas ecco perchè Melchiorri fa la differenza comunque guardate qua come lotta calcio di rigore grazie Melchiorri intanto calcio di rigore vediamo chi lo batte Bakogu a destra a destra e no la parata ma porca troia cioè non ci credo la pure parata ma che momento no per la nostra squadra ultimamente veramente abbiamo delle sfortune anche no fortuna che puse il palo l'avevo già battezzata dentro come gol io cosa fai l'ovra in six ma porca dichiara tua gli endici bravi goccio Makogu per Melchiorri eccolo Melchiorri nei carri importantissimo comunque per questa squadra è veramente assurdo jenic poli minelli ci riesce bene poli goccio suduri goccio bakogu no traversa no ma che botta aveva tirato capela jenic bakogu si gira molto bene che gol 1-0 carpi dai andiamo a fare una bella goleata per riscattarci comunque si vede che gioca Melchiorri ragazzi si vede altro che Malcore diciottesimo gol per Mbakogu attenzione dicino ai venti sarebbe una buona cifra questo questo bakogu mi porta anche in serie A 15 gol di fa secondo me e in balo se il rayocco c'è sponde presente goccio attenzione ripartenza bravo poli risolva problemi grande intervento fatto una cifra da madonna bravo goccio partiamo il chiorri dai niente no porca che sfiga bravo poli ci sono metri a disposizione occhio a questo lancio eh scio se raiocco che cazzo fa stava fermo e immobile aspetta la palla questo mecchiorri bellissimo Mbakogu bravissimo Mbakogu Minelli cosa ha parato ancora mamma mia Minelli mamma mia concaz jenic jenic 2-0 carpi ha fatto gol pure jenic bellissimo gol veramente bello già 2-0 in mezz'ora è il suo topo gol beh ne ha fatti eh ne ha fatti abbastanza bravo bravo goc pure nostra c'è duri jenic concaz Mbakogu jenic jenic nooo Coppolaro riesce a mettere in carcere l'angolo l'idea è bellissima jenic insieme Mbakogu niente saliva Martinelli che allontana vai di chiara non da quella parte ma dall'altra però vabbè nello stesso imparante che c'hai tu la palla eh shudori shudori attenzione riparte Mbakogu l'hai visto ma Coppolaro c'è c'è anche Minelli eh però si aprono spazi invitanti bravo Lovrensix bravo tocco orizzontale attenzione al movimento dei compagni sarà Jokko bravissimo per shudori Makogu Melchiorri per jenic jenic bella jenic 3-0 Karpi nono gol in campionato per jenic per l'esterno è tanto eh ne fatti la metà di Mbakogu c'è anche un attaccante quindi tanta roba al quarantesimo 3-0 lancio veramente bellissimo di chi? Melchiorri sempre lui sempre Melchiorri è fondamentale sentiva la mancanza sia Melchiorri con Palermo forse era un'altra partita bravo Goch bravo Goch di cattiveria Bakogu no niente Curcio ci arriva prima Lovrenzix Konkass Lovrenzix Goch Goch fallo bravo Goch Suduri Melchiorri rimessa per noi laterale perfetto dichiara Jelenic crossa verso il centro Bakogu per poco non ci arrivava sarebbe stato un bel tiro al volo Jelenic per dichiara dichiara mamma mia chiusa la fascia come cuore di chiara è calcio d'angolo nostro ottimo di chiara Bakogu noo Gastadello per poco peccato tra zero che comunque meritato direi di fare un po' di cambi per mettere un po' di riserve tipo un Baie a posto di Shaduri Saber a posto di Goch e mettere un Garitano a posto di Enich magari così almeno facciamo un po' riposare per la prossima partita visto che questa mi do male a meno che non ci venga un colpo al cuore diciamo a vincerla tranquillamente Garitano no dove va il Bakogu niente Bakogu va via non interessa niente la palla lui vuole correre nei prati fioriti da solo ma bene così no Garitano Garitano va Bombaie Bakogu Concas Melchiorri Garitano Garitano ottimo Saber Minelli c'è però ottimo ottimo così che sfiga però dai si avvicina all'area bravo Serraiocco un calmo Serraiocco non ti corri dietro nessuno allora Dovinsix per Poli Saber per Concas lo avresti se non si muove Bakogu Baie vecchi orri Concas Concas Bakogu la difesa la 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 bravo capela torregrossa si ma riatti però tuore ma che fallo mh vabbè va bene lo stesso bisoli no eh bravo Serraiocco si sta comportando molto bene oggi eh Melchiorri no niente dichiara Baie Garitano Saber attenzione Garitano bravo Garitano sono trovato indietro perché pensavo che facesse fallo invece niente Garitano ancora nostra stiamo dominando anche se ha un po' di riservi in attacco ci sarà una sostituzione vada indietro al compagno vecchi orri buona la chiusura costandinis che cazzo è costandinis vabbè spalek bravo l'ovre in six poli partiamo saver eh fallo pure questo se c'è quello di prima c'è anche questo qui eh detto come una casa però questo no perché sono io saver mancano ancora 20 minuti alterni saver bakogu melchiorri melchiorri concast non ci arriva ci arriva cancellotti vabbè che anche il passaggio veniva dei migliori lovr in six dai su un'altra buona giocata occhio al suo movimento occhio al traversone non è finita palla ancora pericolosa hanno metri a disposizione melchiorri gastaldello baie concast saver garitano melchiorri ma minelli para cioè ci arriva prima secondo tempo noiosissimo comunque sta tutto centrocampo molto tecnico e poco divertente baie tonali porca troia ci arriva prima sempre dichiara saver makoku garitano niente niente non ci si arriva mica torregrossa bravo lovrensis va bene va bene così grande lovrensis cattivo ma efficace bravo bravo di chiara per saver saver da solo niente saver comunque continua sempre di più a non a non piacermi questo giocatore proprio è incompleto fisicamente è scarso si sposta come una foglia si sposta comunque si sente la difesa tra gocce saver c'è tutt'altro pianeta ooooh pensavo fosse gol siamo salvati baie garitano melchiorri makoku concas c'è la prima cancellotti garitano makoku niente alta alta dichiara è tua non è più tua metri verso l'area e in bau si gira molto bene niente si arriva arriva il calcio d'angolo per il breccia niente 3-0 secondo tempo veramente anonimo potevamo potevamo anche non giocarlo ma ottima prestazione 17 tiri a 6 sono molto contento della squadra veramente abbiamo fatto 3 volte i loro tiri allora andiamo a allenare i nostri giocatori intanto ora mi sa che siamo a più 12 da quello che ho visto quindi l'empole ha pareggiato tanta roba sarayok aumenta a 62 ottimo si hanno già tutti giocato e siamo a più 12 meglio di così non potevamo andare allora vediamo chi alzerà proprio l'empoli si è sfida diretta veramente contro l'empoli qui si capiranno molte cose dopo 3 giorni abbiamo anche un'altra squadra ad affrontare cioè non ha senso non ha davvero senso come faremo arrivare preparati contro la prossima squadra non ci arriveremo mai ma va bene lo stesso niente ragazzi per oggi è tutto io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao